Auguri cari a tutti i volontari, a tutte le nostre famiglie che ci supportano, ci sopportano in questa nostra pazza modalità di fare cittadinanza attiva. Ampas è in buona salute, è pronta alle sfide che il Congresso ha definito per continuare a essere una presenza importante nella comunità in Italia e in Europa e sicuramente una nave che è in mezzo a una tempesta, una tempesta da venti interni ma soprattutto da venti esterni, ma sicuramente in buona salute e pronta per un bellissimo, io spero, 2019. Amori a tutti.